Foto, selfie, autografi e l'immancabile inno del campo basso calcio, grande entusiasmo tra i giovanissimi partecipanti al campo estivo organizzato dal comune che oggi hanno incontrato allo stadio Selvapiana il mister Mirko Cudini e i nuovi acquisti Federico Nacci e Michele Emma Usso. E' sempre bello riempire le giornate ai bambini come loro ce le riempiono a noi, eravamo felici di fare questa cosa stamattina e è importante essere felici tutti quanti insieme. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'assessore Luca Praetano intenzionato a far vivere ai ragazzi l'emozione di stare su un campo da gioco. Tante le domande che i più piccoli hanno rivolto ai calciatori del campo basso. Sì, domande molto curiose che non ti aspetti dai ragazzini, domande come le squadre che temiamo di più, come affrontiamo gli allenamenti, curiosità che non ti aspetti dai ragazzini che fanno piacere.